Il gioco è stato un match incredibile, le persone nel stadio erano molto felici di vedere questo match. Infortunatamente Milano ha perduto il gioco, ma il livello di combattimento è molto alto. Qual è la tua opinione su questo? Per prima di dire un congrats per i nostri giocatori, i nostri giocatori. Perché credo che i giocatori hanno giocato un lavoro. I giocatori hanno giocato un lavoro. Abbiamo giocato uno dei migliori team in Italia e uno dei migliori team in Italia. Abbiamo un grande giocatore, un individuo e un grande team. E per questo mi sono molto felice per questo risultato. Ok, potremmo vincere 3-1 o magari 3-2. Ma comunque, credo che il nostro capitano Matteo Piano e anche Agostin Losser non avevano con noi. L'hanno avuto un'injurio. E con due buoni giocatori avevano solo un giocatore. Quindi è stato molto difficile per noi. Ma sono molto felice, i ragazzi mi aiutano molto. Perché io gioco come giocatore e i ragazzi mi aiutano molto. Ma senza loro, credo che ero zero in mezzo. Ma mi hanno cercato di aiutare molto. E sono molto felice. Perché oggi vediamo un giocatore, un gioco in Milano. E credo che prima, se potessi chiedere da qualcuno, era un gioco inaspettabile. Ma abbiamo fatto molto bene. E sono davvero felice. Sono parte di questo grande gruppo in Milano. Piazza ha parlato del alto potenziale che ha Milano. E magari voi, il giocatore, non sapete quanto è alto il potenziale. Hai raggiunto con lui? Infortunatamente è così. Sì, sì. Io mi aggiano con il giocatore. Perché oggi vediamo un po' di nuovo. Quando stiamo in giocatore, ci vediamo un po' di nuovo. Io sto cercando di trovare una buona. Non possiamo finire il gioco, come che vogliamo. Prima è stata la stessa di Monza, theno la stessa di Modena, poi con Padova. Quindi, deve creare in noi, perché è il gioco più importante. Abbiamo un ottimo giocatore e anche un ottimo team, ma il più importante è che in mio opinione non crediamo in noi, e non crediamo in gruppo, ma se crediamo in gruppo, credo in futuro, vedremo tutti i giocatori come questo, con le combattie, le emozioni e tutto, ma a volte, specialmente contro le squadre come Piacenza, Perugia, credo che non crediamo che possiamo fare qualcosa di meraviglioso, e la cosa più importante per me è, per esempio, credere in noi, e per il secondo, cercare di lavorare su questo, perché questo è il più importante. Piacenza, ho molti giocatori che vanno la città, 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 sono forti, ma sono forti per te, per Milano, o stanno approcciando loro? Penso che non è così, perché se fosse così, potremmo perdere il gioco 3-0, facile, e così è tutto. Quindi, oggi, abbiamo mostrato uno dei migliori voleiboli di Milano. Penso che non è così, ma come ho detto prima, la cosa più importante è che abbiamo credere in noi, e ancora non credere in noi, ma se non credere in noi, ma se si credere in noi, e se noi cerchiamo di lavorare su questo, penso che Milano sarà davvero per tutti, credo. Ok, grazie. Grazie.